il compleanno in una maniera molto alternativa siamo in un ristorante chinesi molto molto real e abbiamo ordinato questo hot pot che sembra un po' una fonduta dei vecchi tempi e adesso ci buttiamo tutto dentro sono quegli splendidi zii e auguri a me mi hai 45 ok è al personale che ci ha servito egregiamente esatto metti dentro qualcosa giù dai allora vado con un po di noodles perché non vorrei buttarli tutti vai vai qui ho deciso un manzettino bello fine sembrerebbe anche magrino speriamo e dentro nella fonduta al tutto Giacinto è impegnatissimo nel pentolone ramen, verdura, pesciolino, verdure allora lo devi mettere dentro la dell'alto? si ci vuole che diceva che pezze e voilà cambia un altro ancora è il brodolone si ma vogliamo vedere i baci non è che no ma si no è così no 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 ma no no Grazie a tutti.